10 a via da qua 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 Grazie. 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 Ha ragione lui. Ha ragione lui. Vieni a vederti qua, vieni a vederti qua. No, vabbè, 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 vabbè. A ragione lui, guarda. Dai, mi trovi dentro gli occhiali. Ha proprio un filo. Grazie. rossa Quattro. Lo sapevo, lo sapevo, c'è il chilometro. Lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. 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 Lo sapevo. Lo sapevo, lo sapevo. Sì. 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 Cambio. Sì. 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 Un attimo quel dubbio, ma poi ho ricontato perché sei finito giurato. Ho fatto uno, due, tre. Mi sono alternato, ma l'ultimo giocatore era quello. Ho fatto il lancio lì dentro, poi ho fatto due tocchi e poi c'è torna l'andagonata. Perché dovevi entrare col secondo e tirare. vado e poi è super l'ho venuta. Sì. Allora, parla, parla, parla. Sì. Sì. E poi è più l'attimo. Io ho visto, otto secondi. Ho detto, vado, un po' dentro e tiro. Mi sento spazio, nero, è più lì. Andato, scaldato, per la vista, che è questo qua, che l'ho toccato qui un po', era perfetto al passato. lì c'era cioè la palla era messa poi io quando ho visto un segno nero fra la palla e la base ho detto forse non tocca io avevo visto un toccato ma adesso mi parla no c'è un'armi tra di sé stiamo a parlare di millimetri un'armi tra di millimetri 5, 4, 3, 2, 9, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Grazie. 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 Merda. Nooo. Grazie. 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 No, grazie. 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 Per me è una sanzione. Sì sì sì. Oh la cifra! Ma che cagata di riflessione. Cominci a prendere qualche rizzo, Hernando. Non è possibile! Cosa cazzo regalo con questa partita? Stifano! Stifano! Grazie. Ruffò. Si stai, hai fatto una cosa impossibile. Grazie. 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 L'ha toccata, eh. Quando è caduto... Si è entrato, l'ha toccata. L'ha toccata, riga. L'ha toccata quando è caduto ha rotolato verso la palla, cazzo. L'ha toccata. Bisogna demoralizzare, no? Non c'è, con me no. Basta. Mantieni la concentrazione, ma... presso, presso, 2.30. Grazie. 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 Grazie.